Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Ho sempre sognato di entrare saltando, scusate, ma non potevo camminarci e basta. Facciamo un esperimento, velocissimo. Vi domando subito, per alzata di mano, quanti di voi sono stati al Louvre? Fantastico, ok? Unanimità completa. Ora, il Louvre è un database enorme, forse il più grande database della civiltà umana. E contiene opere d'arte, manufatti, che vengono dall'Egitto, dalla Mesopotamia, partono dall'inizio della civiltà umana fino ad arrivare ai primi del Novecento, fino a Jericho, diciamo, 800-900. Ora, io sono quasi sicuro che ognuno di voi, nei percorsi al Louvre, abbia visto almeno una cosa, o almeno si ricordi di una cosa. Della Mona Lisa di Leonardo, giusto? Ognuno di voi che è andato a Louvre è andato a portare omaggio alla Mona Lisa. Ora, non so se... facciamo questo piccolo esperimento. State guardando negli occhi la Mona Lisa di Leonardo, ok? Cosa avete intorno? Non vale per chi è appassionato di Beyoncé e ha visto il video, perché se no non funziona, cioè deve essere basato su un'esperienza da visitatore al museo, quindi non spoilerate che cosa c'è a fianco. Ve lo dico, tra un minuto, davanti alla Mona Lisa di Leonardo, cioè sedate le spalle alla Mona Lisa, vedrete questa pittura. Non passa certo inosservato, no? È una pittura di nove metri di larghezza per sei di altezza. Sono le Nozze di Cana di Paolo Veronese, una pittura rinascimentale. Ora, se osservate bene queste immagini, vedrete che in mezzo alla sala c'è qualcosa di strano. C'è una sedia, la vedete? Ok, no? Una sedia nera. Ora, se alzate lo sguardo, vedrete che nel quadro c'è un altro elemento di disturbo. Lo notate? Lo schermo è grande, ma magari non abbastanza. Tra un minuto zoomerò. Vedete che c'è una persona al centro del quadro. Per questo sono entrato saltando, non potevo non entrare saltando, insomma. Questo cerchio mi invitava. Ora, attraverso un salto, un salto reale, quindi utilizzando come elemento quello che di più naturale c'è, cioè la forza di gravità o almeno l'esperienza della forza di gravità, sono a Parigi ma al tempo stesso sono a Cana. Sono nel 2019, anzi chiedo scusa, sono nel 2009 perché questa fotografia l'ho scattata ben dieci anni fa, ma contemporaneamente sono nel Rinascimento perché i personaggi ritratti sono vestiti dai costumi rinascimentali e sono anche al tempo stesso nel Nuovo Testamento, all'epoca in cui Gesù faceva i miracoli. Ora, vi dico questo perché con un semplice salto ho aumentato questa pittura e ho fatto un salto temporale anche, no? Mi sono connesso a più cose, a più dimensioni, sono sospeso tra più mondi e questa idea di essere sospeso tra più mondi, secondo me è una prerogativa della nostra generazione, quella dei millennial o comunque quella che ha vissuto la transizione di fase epocale tecnologica di internet e dei cellulari. Ora, noi in questo caso siamo sospesi tra il mondo analogico e il mondo digitale, l'abbiamo ripetuto molte volte oggi, ma non so se avete presente quando state parlando con qualcuno e sentite in tasca che avete il telefono che vibra, capite che è un messaggio, non è una telefonata, però siete nel mezzo di una conversazione con un'altra persona, ma dovete rispondere, cioè la tentazione è troppo forte, quindi continuate a dire, ah sì sì, interessante, poi guardate in basso, guardate il telefono e arrivate, vedete Whatsapp, ok, ti rispondo, intanto sì sì, ok, e rispondi, ecco, quando fate questo, perché sono sicuro che lo avete fatto, continuiamo a farlo costantemente, lo facciamo e lo faremo sempre di più, voi non siete soltanto di fronte a quella persona in quel momento, voi siete anche magari in Australia a rispondere al vostro amico che vi sta chiedendo un'informazione o vi sta soltanto salutando. Questa è un'iperconnettività dimensionale che in qualche modo ci entusiasma, ma dall'altra parte rischia un po' di confonderci, perché magari perdiamo il discorso, poi facciamo delle figuracce, perché non riusciamo più ad interagire come dovremmo. Ora, quello che è una novità per noi non è una novità per le particelle, cioè questa capacità di essere in più posti contemporaneamente e di interagire con più cose è una prerogativa delle particelle, lo hanno sempre fatto e sempre lo faranno. Loro vivono in una nuvola di probabilità quantistica e quindi possono essere in più luoghi. È naturale fin tanto che succede qualcosa e allora produce degli effetti. Ma perché facciamo fatica in qualche modo a immaginarci, di comportarci come qualcosa di così primordiale come sono le particelle? Perché in qualche modo ci ricordiamo quello che eravamo ieri, cioè elefanti nella savana che seguono sempre percorsi lineari alla ricerca dell'acqua, da punto A a punto B, no distraction. Ora, per chi è un millennial o per chi ha avuto un figlio in anni recenti, diciamo, non troppo recenti, conosce il cartone animato dei Pokémon. Conoscete i Pokémon, no? Sì, no? Ora, io immagino che quello che stiamo vivendo oggi assomigli a un upgrade come da una versione basica di un Pokémon a una versione upgraded. Nella questione, magari, non so, immaginiamo anche a Dragon Ball, no? Da normale a Super Saiyan. Ecco, la trasformazione che ci aspetta è quella dell'elefante quantistico. Dobbiamo diventare un elefante quantistico. Non so, io l'ho visualizzato in maniera molto banale, ma sono sicuro che ci sarà modo di descriverlo in maniera più vincente. Questo come lo possiamo fare? È fondamentale immaginare nuove dimensioni. È importante tornare alle domande di base, a quelle fondamentali, da dove veniamo e chi siamo. È per questo che quando ci comunicano che abbiamo scoperto una nuova immagine di un buco nero, tutto il mondo è affascinato e colpito da questa notizia. Perché è in situazioni tipo nel Big Bang o nei buchi neri che noi siamo stati, nel lontanissimo passato, connessi al tutto. Quindi io mi occupo di arte contemporanea, ma ho scelto un approccio interdisciplinare perché avevo il bisogno di capire meglio che cosa c'è alla base delle cose. Le domande della scienza sono simili a quelle dell'arte, perché entrambe si occupano dell'invisibile e dubitano che la realtà che ci circonda assomigli a quello che vediamo. Credono che dietro alla realtà ci sia un'altra realtà, una sub realtà. Le domande sono che cos'è la materia? Cosa sono le particelle? Cosa sono gli atomi? Sappiamo che gli atomi hanno degli elettroni che orbitano intorno a dei nuclei fatti di quarks. Grazie alla fisica teorica e sperimentale sappiamo sempre di più su come si comportano le forze fondamentali. Sappiamo che esiste uno zoo di particelle che compone un intero modello standard, che è il linguaggio della natura. Però sappiamo anche che le particelle si comportano in maniera diversa. Non è che torniamo a casa, andiamo in salotto e diciamo «Ah, ciao particella, come stai? Stai leggendo un giornale?» Non è lì la particella. La particella non è seduta su una sedia, può essere qui, 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 lo riempie, è in un campo di possibilità. Come succede in questa scultura che ho chiamato Dragon's Egg, uovo di drago? In questo caso potrebbe stare esattamente in un posto, in effetti ci sta, è un bronzo, una tecnica di più di 5.000 anni fa, che però è deciso di equipaggiare di un rivelatore di particelle, realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ora, ogni tanto la scultura emette un lampo di luce. Quando emette un lampo di luce lo fa non perché, come dire, ha voglia di farlo, ma perché il rivelatore che ha al suo interno capta dei muoni, cioè delle particelle che vengono dalla stratosfera e le convertono in energia, le convertono in luce visibile. Quello che vediamo non è la particella, non è il muone in sé, ma è l'interazione che ha avuto con il rivelatore. Quindi abbiamo imparato che alla base delle particelle, come vediamo nella scultura, quello che vediamo veramente è l'energia. Però che cos'è l'energia? E qui arriviamo un po' alla questione fondamentale. Tutta la fisica si basa sull'idea che l'energia non si crea e non si distrugge, ma si conserva. Tutto quello che vediamo è un prodotto dell'energia, ma se non si crea e non si distrugge, da dove viene l'energia? Ora, collaborando con la comunità scientifica, in particolare nel 2009, mandando una semplice email, ho iniziato un dialogo con Carlo Rovelli, che magari conoscete, ho capito che ho sentito parlare di Wheeler, John Archibald Wheeler, che è un pioniere della gravità quantistica, insieme a Charles Misner e a Kip Thorne, che negli anni Ottanti, alla fine degli anni Ottanti, esprime un concetto straordinario. Lui dice che alla base dell'energia c'è l'informazione. Però è un'informazione strana, non è l'informazione che conosciamo oggi. È un'informazione che in qualche modo rappresenta tutte le possibilità di un sistema. Ora, se immaginiamo che tutto quello che ci circonda, dalla microscala alla macroscala, è fatta di bit di informazione, come dice Wheeler, it from bit, allora non c'è frattura. Non c'è frattura tra la microscala, tra l'esplosione di una supernova e, per esempio, una pittura del Rinascimento. Non c'è una differenza tra lo spin di una particella e un hard disk che dissipa calore sulla nostra scrivania. Non c'è differenza tra una telefonata su Skype e delle urla nella foresta dei gibboni, oppure le onde gravitazionali prodotte da un buco nero. E se questo è vero per loro, allora è vero anche per noi. Anche noi esseri umani siamo fatti di informazione e condividiamo informazione. Anche internet, quindi, è una forma di informazione che ci permette esperienze diverse, ma non dobbiamo dimenticarci che è come avere a che fare con dei segnali di fumo o delle pitture rupestri. In un'epoca in cui cerchiamo di mettere al centro della nostra esperienza l'essere umano, nell'antropocene, quello che dobbiamo secondo me fare è non immaginare di essere esseri umani che usano l'informazione e strumentalizzano l'informazione per ottenere delle cose, ma di essere informazione in movimento. Il nostro mondo assomiglia a una specie di mandala, dove i bit di informazione sono come granelli di sabbia che restano intrappolati solo temporaneamente e poi sono liberi di muoversi e di andare altrove. Sono questi granelli che compongono questo essere, il primo descritto da Calvino nelle Cosmicomiche che ha deciso di saltare, per l'appunto, fuori dall'acqua per vivere su uno scoglio. Le sue informazioni sono dentro ognuno di noi, proprio in questo momento. Nel mio lavoro ho immaginato un linguaggio dove l'informazione potesse prendere tante forme e potesse parlare a più pubblici e potesse andare oltre la disciplinarità specializzata. Lo immagino così, un altro riferimento a Dragon Ball. È un Dragon Shenron 5.0 con con la testa di gravità quantistica, gli occhi di cosmologia multimessaggera, gli artigli di cera lamedardo rosso, il cuore di fisica delle particelle, la coda di quantum computing e le ali degli angeli della Madonna del parto di Piero della Francesca. Grazie. Con questo linguaggio si può fare cose che, almeno io, ho potuto fare cose che non mi sarei mai sognato di poter fare. Sono finito all'auditorium del SER di Ginevra, un'esperienza incredibile, potete immaginare, a parlare del bacco e reana di Tiziano a dei fisici sperimentali durante lo Spring Collaboration Meeting della NASA e del Fermi Telescope. Per me è stato un miracolo, un vero miracolo. Ho parlato del bacco e reana di Tiziano come se fosse un blazar, come se fosse un getto di informazione che viaggia nello spazio aspettando che qualcuno riceva questo segnale. Noi tutti, quando andiamo al Louvre e guardiamo un'opera d'arte, siamo un rivelatore che estrae dall'arte dell'informazione e la traduce nella nostra vita. Per concludere, nell'era di Internet e dei social network, alle porte di una rivoluzione tecnologica basata sui computer quantistici integrati e l'intelligenza artificiale, stiamo solo adesso iniziando a intuire quello che può essere una nuova forma di messaggistica universale, quella delle onde gravitazionali, quella della materia oscura, quella dei timidissimi neutrini che per poter essere ascoltati hanno bisogno di un'intera stanza di purezza, perché se no non te la raccontano il segreto, sono come i migliori amici. In questo periodo stiamo passando da una società basata sull'elettromagnetismo, quella dei nostri nonni, quella che hanno visto e sono stati sconvolti dalla potenza distruttiva dell'atomo, dalle onde radio e dai raggi X e quindi da tutte le forme di comunicazione basate sullo spettro elettromagnetico che ancora oggi stiamo usando in questo momento. Ecco, immaginate quello che succederà a noi nel prossimo futuro quando potremo comunicare e inventare una nuova tecnologia basata su queste altre cose. Ora, qual è il punto? A cosa serve poter comunicare di più e leggere più informazioni a 360 gradi? Qual è il fine? Per me il fine è arricchire la nostra coscienza, è capire profondamente chi siamo e come possiamo interagire con tutte le cose che ci circondano e la cosa bella è che la coscienza quando la maturiamo ed è diciamo mia, non è solo mia, è nostra perché attraverso la comunicazione, attraverso l'informazione passa da me a voi.